cuore nero verde il programma tv che ogni venerdì alle ore 19 ti informi approfondisce tutto il mondo del sassuolo calcio in collaborazione con sassuolo news e tvb studio tutti venerdì alle 19 su rete 8 qui studio voi stadio eccoci ancora insieme una buona serata bentornati nel nostro cosiddetto appuntamento di cuore nero verde questo cuore che batte più nero che verde in questo periodo sappiamo benissimo le problematiche del sassuolo che sicuramente quest'anno non è nata sotto una buona stella ce ne siamo resi conto anche delle fonti di berardi che ne parleremo stasera e ce ne siamo resi conto anche dell'arrivo di barlardini vediamo se la medicina barlardini avrà un esito positivo nel prossimo match contro il forzenone ma questo è d'altro perché abbiamo anche diciamo così una congrega di tifosi che sono hanno fermato l'allenamento del sassuolo per incentivarli a tirare fuori diciamo così gli attributi e di questo e di altro ne parleremo questa sera insieme al direttore di sassuolo news e antonio parrotto ciao antonio ciao luca buonasera poi ovviamente il nostro signor a marcord luca barozzi che non può mancare ciao buonasera a tutti e innanzitutto colgo l'occasione per fare un grosso augurio per la festa delle donne tutte le donne che sono alla visione questa sera e anche quelle presenti con noi con la claudia ciao claudia buonasera a tutti e il ritorno creditissimo della nostra palleggiatrice perché palleggiatrice perché le palleggia col pallone abbiamo già avuto modo di vederla qualche settimana fa valentina buona serata anche a te e la nostra immancabile bellissima sabri ciao sabri grazie mille buonasera a tutti allora io direi di partire praticamente con quello che è successo prima della presentazione ufficiale di mister ballardini ovvero una congrega di tifosi si sono avventati in maniera ovviamente pacifica nell'allenamento finale del sabato del sassuolo calcio e hanno fatto più o meno un po di rumore ha fatto capire possiamo mandare magari anche l'audio vedere un po quello che avrebbero detto ecco mentre lo stiamo seguendo importante dove in una piazza tra parentesi diciamo proprio tranquilla perché in questo momento di tranquillo non c'è veramente niente è stata una cosa più unica che rara sì fammi sottolineare intanto bella perché poi è stata una cosa positiva innanzitutto perché i tifosi hanno voluto dare la carica di esprimere la loro vicinanza ai ragazzi ovviamente anche con qualche coro un po più colorito diciamo così invitandoli appunto a tirar fuori gli attributi a dare il massimo a sudare la maglia cosa che poi che secondo me è stata fatta con con il verona anche se è arrivato un risultato negativo come sappiamo però bello che i tifosi del sassuolo dimostrino in questi in questi casi in questi momenti difficili la loro vicinanza alla squadra mi permetto di dire comunque sempre rimanendo nell'ambito civile giustamente provando a riscaldare un po quelli che sono i nostri calciatori però è una contestazione che ci sta anzi ci vuole un po di pepe perché spronarli è buono però ci tengo a sottolineare sempre nell'ambito civile esatto sempre l'altro civile e però mi sembra un pochettino antonio che questa piazza del sassuolo dopo quello che è successo le cittadini poi di domenico berardi che non ha fatto in tempo a tornare in campo contro il verona che purtroppo si è nuovamente infortunato e ne avrà per un bel po di tempo sicuramente non potrà dare una mano a questo sassuolo che molto probabilmente la medicina di ballardini sarebbe stata ottimale ma in modo particolare l'ingresso di berardi l'abbiamo visto al primo minuto contro il verona era decisivo per la salvezza di quest'anno sì chiaramente c'è l'abbiamo sempre detto no c'è un sassuolo con berardi è un sassuolo senza domenico berardi si è visto quest'anno con con i numeri dieci partite un solo punto fatto dal dal sassuolo si è visto anche a verona perché c'è stato un sassuolo leggermente diverso ovviamente c'è anche da tenere in considerazione la cura ballardini come come dicevi tu però con berardi in campo la sensazione che possa succedere sempre qualcosa di importante c'è spiace per questo brutto infortunio era atteso come come il messia perché il salvatore della patria doveva essere il salvatore della patria ora quasi non resta nemmeno più l'ultima speranza al sassuolo per aggrapparsi a questa salvezza forse è rimasto solo davvero ballardini cioè speriamo che sia lui a dare questa carica visto il brutto infortunio di berardi che dovrebbe rientrare però un po prima del previsto quindi tra settembre ottobre potrebbe già tornare in campo esatto tornerà luca cosa solo ma in che categoria non lo sappiamo piano piano finché la matematica non ci condanna sono ottimista di natura sai che cosa luca quello che dispiace mi dice fa un contrasto di gioco si fa male l'unica volta che il portiere ti fa un regalo che potevi sicuramente andare a fare un bel tiro col sinistro di berardi si è rotto in un regalo del portiere è quello che fa ancora più arrabbiare lui praticamente è caduto su se stesso ha messo male il piede ma lui guardava già lo specchio della porta e secondo me stava si stava già preparando per tirare in porta quindi vorrei comunque ringraziare berardi per tutto quello che ha fatto in questi anni per il sassuolo perché se siamo in serie a lo dobbiamo chiaramente alla famiglia squinzi al dottor giorgio squinzi e sua moglie adriana spazzoli deceduti prematuramente ma anche comunque a mimmo berardi che ha sempre salvato il tutto quello che c'era da salvare in questi anni già comunque anche l'anno scorso la squadra dipendeva da lui e se mi permetto di fare una piccola critica è quella che non si è rinforzata la squadra dall'anno scorso quest'anno e quindi basta bastava che un infortunio in questo caso e che avrebbero comunque decretato questa questa situazione in più abbiamo anche altre abbiamo sia l'attacco che la difesa che non vanno bene quindi allora intanto abbiamo avuto il piacere di avere sempre la nostra monia del club del sassuolo dove seguono la squadra anche in trasferta ragazzi abbiamo qualche testimonianza del dopo partita cioè quindi sentiamo anche l'umore dei ragazzi che sono andati fino a verona per vedere questa partita che è fondamentalmente se fosse finita 0 a 0 non avrebbe non si sarebbe lamentato nessuno ma vediamo e poi capiamo l'errore e valutiamo intanto sentiamo i nostri amici da nostra scuola Cosa ne pensi del campionato? Penso che è stato sbagliato l'inizio campionato acquistando dei giocatori non validi per la serie A tanti venduti e pochi acquisti validi tutto lì Cosa ne pensi dell'andamento del campionato? Eh parecchio altalenate ma piuttosto che quest'anno purtroppo va così Cosa ne pensi dell'andamento del campionato? Le cose si stanno facendo difficili la matematica non ci ha ancora condannato però è un declino immisurabile che ci auguriamo che non porti alla serie B oggi la squadra ha giochicchiato ha sbagliato Eccolo qua questo era il pullman che ha riportato a casa con l'umore sotto i tacchi i tifosi del Sassolo che fra i quali avete sicuramente notato che c'era anche il primo cittadino E' vero Sabri? Sì sì il sindaco Mennano infatti ci ho messo 3-4 secondi e ho detto ma è lui, non è lui ma certo che era il sindaco E' un grande tifoso lo segue anche in trasferta questo fa veramente onore Poi in trasferta coi tifosi insomma non è che è andato là con la burlina blu Esatto con la macchina blu giusto come dici tu Ma senti allora Claudia parliamo di questa situazione qua perché i ragazzi sul pullman hanno menzionato praticamente il discorso della campagna acquisti che non è andata non è stata attesa come poteva essere inizialmente quindi al di sotto delle aspettative ma soprattutto hanno venduto molto e hanno acquistato poco tu cosa ne pensi? Io condivido tutto quello che hanno detto, tutto lo dicevo già dall'anno scorso quindi però questa sconfitta mi brucia particolarmente perché il Verona non era certamente superiore al Sassuolo e tutte e due le squadre erano abbastanza equivalenti L'unica occasione pericolosa al Verona l'ha avuta nel primo tempo che ha fatto due tiri molto belli, il primo quasi imparabile e Consiglio è stato bravissimo perché l'ha parato anche il secondo Poi di azioni rilevanti non ce ne sono più state e quindi la partita poteva decidersi solo in questo modo regalando e facendo un errore da parte di una squadra Purtroppo siamo stati noi con Enrique che appunto ha perso la palla poi c'è stata anche una deviazione di Erlich e un errore di consigli che forse non so è uscito troppo ma che comunque ha battezzato la palla da un'altra parte Un gol che era parabilissimo e dopo io posso in questa fase negativa comunque devo dire che nonostante l'infortunio di Berardi gravissimo si è capito subito perché non appoggiava più il piede La squadra comunque ha tenuto, ha reagito perché se non ci fosse stato questo errore qua appunto di Enrique io l'ho vista comunque lottare Mi sarei aspettato una goleada subito tipo Napoli invece no La cosa che invece secondo me bisogna mettere a fuoco Antonio è il discorso di primo ovvero questa campagna acquisti Poi tra l'altro abbiamo avuto modo anche di intervistare la di Carnevali nella presentazione di Ballardini Io ho fatto questa domanda di questa campagna acquisti e la sua risposta è stata io non faccio acquisti se non con il consenso dell'allenatore Però effettivamente è andato via Maxi Lopez è andato via Fartesi e il centrocampo è preso Boloca Terzini sono atti via tre terzini sinistri sono atti via e preso Doing e adesso perché Vignas è scappato Centralmente gli stessi difensori che l'anno scorso non hanno fatto bene ovvero Ferrari e Tre Soldi che lo conoscono dappertutto Attenzione Allora io dico questo sa solo se dovesse andare in Serie B ma che colpo può averne un allenatore Antonio? Un po' di colpe secondo me le ha anche Mister Dionisi le hanno un po' tutti quando le cose non vanno bene non è mai semplice Anche prendersi le proprie responsabilità io per esempio in questi giorni ho scritto un editoriale sul sito l'ho chiamato il silenzio degli innocenti Perché mi ha colpito molto il silenzio appunto dei giocatori del sassuolo dopo l'addio di Alessio Dionisi Perché mi è sembrato quasi un modo per voler scaricare tutte le colpe addosso all'allenatore ma non è così In campo poi ci vanno i ragazzi con le indicazioni dell'allenatore e prima ancora con le mosse della società Lo abbiamo chiesto come dicevi tu Luca a Carnevali io mi sono concentrato anche sul mercato di gennaio perché poi è vero in estate sono state fatte delle scelte A gennaio forse io rimango di questo parere nonostante la risposta di Carnevali sono stati un po' valutati Quindi scusatemi è stato sottovalutato il momento ecco Carnevali ha detto di no però secondo me invece forse c'è stato un pizzico di presunzione perché si poteva fare qualcosina in più per sistemare la squadra E' stato generoso dire un pizzico ma attenzione volevo far parlare anche alla nostra Valentina perché tu devi sapere che noi ogni tanto qui in trasmissione ci divertiamo a fare dei rebus Non so se ti ricordi aveva fatto uno Allora vediamo se riusciamo a indovinare il rebus perché fondamentalmente ragazzi c'è da dire una cosa che secondo me a questo punto il sassuolo o tira fuori un giocatore che ti fa la differenza Perché non ne hai o altrimenti veramente notte fonda Chi potrebbe essere il giocatore che possa esprimere un qualcosa in più magari al posto del Berardi che non c'è ovviamente a livello diverso Ecco questo potrebbe essere il giocatore chi è? Volpe Il calciatore di fianco si chiama Pato Aspetta Volpato Volpato Ok Quindi è volpato è volpato è un giocatore che secondo me è stato inserito poco rispetto alle qualità che ha perché è un giocatore molto tecnico è uno che ti salta anche l'uomo Diciamo che non è un Berardi però è uno che sicuramente ti può fare la differenza al di là di Castiglieco O anche di De Frey che ormai abbiamo visto che non va più tanto io non so voi siete concordi con me o preferite magari un Castiglieco Io Castiglieco sono rimasta malissimo perché pensavo l'avevo visto poco pensavo giocasse molto meglio perché il Milan l'ha venduto al Valencia E il Valencia dopo l'abbiamo preso in prestito noi ho guardato la media del Valencia su 93 partite ha fatto 4 gol In quei 20 minuti che l'ha inserito dopo l'infortunio di Berardi io non l'ho visto giocare bene per niente Felice di essere smentita felice se questo magari le prossime partite diventa un fenomeno felicissima però l'impressione molto negativa invece ho un'impressione positivissima di Ballardini Perché ha fatto una conferenza stampa che mi è piaciuta ha detto che cercherà di cambiare il più possibile e io dico tutto quello che può perché fino adesso i risultati sono stati pessimi Cercando comunque di rispettare le caratteristiche dei giocatori perché insomma anche Pinamonti nell'Empoli aveva un altro ruolo giocava in un'altra maniera quindi cercando di valorizzare forse un po' di più i giocatori Velocemente andiamo a vedere anche il prossimo turno perché è interessante tutti i punti di vista Sabri ce ne vuoi palar tu che sai quella che ha l'occhio di l'incio no? Quella che vede meglio di noi Funzione, adesso serve il microfono Allora Abbiamo Napoli-Torino, Sassuolo-Frosinone c'è il sabato alle 15, Cagliari-Selernitana, Bologna-Inter, Genoa-Monza, Lecce-Verona, Milan-Empoli, Juventus-Atalanta, Fiorentina-Roma e Chiude-Lazio-Dineso il lunedì sera Ok perfetto, intanto abbiamo visto Antonio che ci sono ancora degli scontri diretti importanti e un'altra giornata fotocopia di quella appena passata Sì, abbiamo visto Cagliari-Salernitana, Lecce-Verona sicuramente sono due match su cui punteremo gli occhi Anche un po' per gufare perché ora in questo momento c'è rimasto anche quello per il Sassuolo che è penultimo 20 punti in classifica scavalcato anche dal Verona e dal Cagliari che nell'ultimo turno appunto hanno conquistato i tre punti C'è bisogno di una svolta, ora il tempo delle chiacchiere secondo me è finito, bisogna solo fare i punti Esatto, c'è qualcuno in Romagna che dice fatti e nonne, e nonne Allora diamo il microfono alla nostra Valentina, allora vale Allora noi dobbiamo fermarci un attimo per la pubblicità che lancerai tu Però nel frattempo vi facciamo vedere la gag che dovrete indovinare da casa Però adesso noi non possiamo dire, l'attenzione vi lasciamo con questa gag e dovete indovinare di cosa si tratta Perché dopo parleremo di lui e della partita del Sassuolo, state con noi Dal 1954, Garad, con tecnologia all'avanguardia, siamo specializzati in riparazione di rimorchi, autobus, veicoli industriali Servizio di meccanica, letrauto, gommista, carrozzeria Revisioni per autoveicoli, motoveicoli e veicoli industriali direttamente in sede A Sassuolo, agenzia immobiliare Giacase di Cuono Diego Specializzata in compravendita di immobili residenziali esclusivi Da noi il tuo immobile giusto è garantito Inicia a trovare Centro Formazione Modena Tutto nella sicurezza sul lavoro Offre formazione mirata e consulenze per ottimizzare i flussi Inoltre, digitalizzazione per sicurezza informatica Contattaci 059 5809417 Bene ragazzi, ancora insieme, qua ci siamo arrivati a capirlo, ma ce n'è voluta, ce n'è voluta Proviamo a mettermi la sua impressione, così magari gli amici a casa hanno modo di ricordare un po' qual era la gag di quest'oggi Si parla ovviamente di una Marcord, anche se non è nell'appuntamento della Marcord, perché ragazzi è stato l'allenatore che è riuscito a portare a Sassuolo Non il profumo, la vera Europa, perché ci siamo arrivati proprio in Europa lì Di che si parla? Di Ugello? Di Francesco Eusebio 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 Luca sbaglia tutti Tanto per cambiare Allora, un allenatore importante per il ricordo del Sassuolo, ma in modo particolare Un allenatore che gioca, spergiudicato come era Sassuolo, la squadra che ha subito più gol quest'anno in Frosinone Però nello stesso tempo è anche una squadra che, se non stai attento, in contropiede, ti ammazza Si, si affrontano le due peggiori difese della Serie A, il Frosinone 56 gol subiti, il Sassuolo 55 E si affrontano anche i due migliori attacchi della parte destra della classifica Quindi, almeno a guardare i numeri, lo spettacolo non dovrebbe mancare, lo sappiamo Di Francesco fa giocare molto bene le sue squadre A Frosinone, era partito benissimo, ora sta un po' arrancando, è un po' in difficoltà E il Sassuolo deve provare ad approfittarne, lo sappiamo, non sarà facile Perché anche il Sassuolo, appunto, è in gravi difficoltà Però è una sfida da luce Il Frosinone, fondamentalmente Luca, è una colonia del Sassuolo Perché? Perché ha un sacco di giocatori che vengono dal Sassuolo E che quest'anno avrebbero fatto comodo al Sassuolo Sicuramente da Paul Lirola abbiamo visto Devo dire che Mazzitelli è cresciuto tantissimo Mazzitelli sta veramente facendo un signor campionato Ma anche a Rui sta giocando bene Anche a Rui addirittura ha fatto uno o due gol, mi sembra Un paio di gol, un gol E soprattutto i prestiti I tre ragazzi, i giovani della Juventus Hanno sicuramente un talento Che è solo una questione di tempo Quindi hanno messo insieme una bella squadra Portati da Angelozzi e altro ex Esatto, portati da Angelozzi Nel frattempo andiamo a fare una considerazione un po' più tecnica Di quello che potrebbe essere la prossima partita Al Mapei Stadium, questo sabato alle 15 Grazie anche al nostro Davide che ha fatto le carte Di come potremo andare nel match Eccoci qui per parlare di Sassuolo Frosinone Un'altra partita da dentro fuori per il Sassuolo Il Frosinone è una squadra che gioca per vincere tutte le partite A prescindere da quale sia l'avversario Che sia di alta classifica o di bassa classifica È una squadra che ha un credo molto offensivo Molto propositivo Ed è la squadra a mio avviso che tra quelle che lottano per non retrocedere Gioca meglio a calcio A livello proprio estetico Però di contro è una squadra che subisce tantissimi gol È la peggiore difesa del campionato al momento È una squadra però di contro appunto che crea tantissime occasioni E forse segna meno di quanto crea Però appunto è una squadra che mette molto in difficoltà qualsiasi avversario Perché va al tiro tante volte Occupa l'area di rigore con tantissimi giocatori E gioca in maniera molto pericolosa per gli avversari Soprattutto sugli esterni Con gli attaccanti esterni Che giocano a piedi invertiti E quindi spesso si trovano ad accentrarsi E ad andare al tiro col piede forte E in questo modo agevolano anche le sovrapposizioni dei terzini Un po' proprio il discorso che è il credo calcistico di Zeeman Che di Francesco ha ripercorso E il Sassuolo deve assolutamente correre A sto giro deve tanto correre E cercare di chiudersi bene andando al raddoppio L'unica alternativa è questa E poi probabilmente il Sassuolo dovrà essere un po' più pericoloso Rendersi più pericoloso sulle palle inattive Bene, grazie ancora una volta al nostro Davide Sempre molto, come si può dire, sul pezzo Una partita difficile da affrontare Ma sicuramente Antonio Qualcosa potrebbe darsi che possa cambiare Dalla partita che abbiamo visto contro il Veroni In modo particolare Forse il modulo si vocifera Che Ballardini, che non è nuovo a giocare con la difesa 3 Potrebbe inserire anche con Bull dal primo minuto Sì, c'è bisogno di una scossa Non solo a livello mentale Anche qualcosa a livello pratico E Ballardini appunto sta pensando alla difesa 3 In conferenza stampa lo ha detto Dal Genoa, dalla sua avventura al Genoa In poi ha inserito la difesa 3 Quindi si può andare verso questo cambiamento Magari già nella sfida con il Frosinone Che come abbiamo detto e stiamo ripetendo Diventa veramente fondamentale vincere Perché poi gli scontri diretti Iniziano a calare Ci saranno sempre meno partite Poi ci sarà la Roma Quindi l'Udinese La Salernitana Quindi c'è bisogno veramente di far punti Allora, gli scontri diretti sono 5 Se noi sbagliamo quei 5 scontri diretti lì Vuol dire 15 punti E soprattutto fermare La tua concorrente per la salvezza Quindi se non fai quelle 5 vittorie lì Ho paura che è sto zitto Però diciamo che anche questa giornata La prossima giornata è molto importante Proprio per il discorso salvezza Perché si scontrano tante squadre che sono pericolanti E quest'anno c'è più bagarre Nella lotta a salvezza Che è in Champions League Quindi vuol dire che effettivamente La media punti Si è notevolmente abbassata Si perché ci sono tante squadre coinvolte Il Genoa e il Monza Diciamo si sono un po' staccate Si, 33 punti 34 punti Loro sono già sicuri Però le altre Sono tutte in lotta per la salvezza Ora un po' più staccato Staccata la Salernitana In basso alla classifica E c'è bisogno di Appunto come diceva giustamente Luca Di non perdere gli scontri diretti Ovviamente meglio vincere Però iniziamo già Già a non perdere Perché ad esempio con il Verona Già tornare da Verona Con lo 0-0 E non ti scappava E non ti scappava Il primo di Berardi era già moltissimo Però non ti scappava Senta attorno dei primi A individuare il possibile cambio di modulo Dove vedrebbe praticamente Un centrocampo a 4 Perché abbiamo già visto Contro il Verona Che con un centrocampo a 3 Dà molta più stabilità anche alla difesa Sì Abbiamo visto già Torsved Che può dare un po' più di fisicità Lì in mezzo Potrebbero esserci Ecco tante novità L'Oriente In questa fase Abbiamo anzi In questa stagione Direi Non solo in questa fase Ha deluso Si è un po' seduto Dopo l'ottima prima stagione Con il Sassuolo Quindi Provare a cambiare qualcosa Mancherà Mancherà Berardi Dall'altra parte Ci può essere Questa sorta di 3-4-2-1 Può essere un'idea Il 3-4-1-2 Poi vedremo chiaramente le varianti O magari anche il 3-5-2 Vedremo poi cosa Però Diciamo che il perno Diciamo il faro Sarà sempre a Binamotti Con magari dietro Un paio di mezze Di mezze punte Che potrebbe essere L'Oriente E con Bairami Ma potrebbe anche esserci volpato Difatti L'Oriente Un po' di panchina Secondo me Dopo una stagione Microfono Microfono No Dico L'Oriente Dopo una stagione come questa Un po' di panchina Perché ha giocato bene I primi 6 mesi 7 Poi dopo L'anno scorso E quest'anno Non pervenuto Quindi Meglio Meglio passare ad altri Sinceramente Ok Allora Volevo far parlare Anche la nostra Sabi Perché Fondamentalmente Insomma L'Oriente E questo giocatore Che l'anno scorso È stata la grande rivelazione Di questo Sassuolo Quest'anno È proprio Un ectoplasma È riconoscibile È proprio Impalpabile Non salta l'uomo Non si riesce a capire Per quale motivo Però nonostante questo La società Soprattutto gli allenatori Hanno sempre dato fiducia Settimana dopo settimana Sì Io queste cose Non le capisco Vedo che comunque Gli allenatori Fanno sempre così Si impuntano su un giocatore Questo può fare anche Tutti i colori Che continuano a fare Giocare Non lo so Io ripeto Per me la squadra è scarsa tutta Poi senza Berardi Non ne parliamo È meglio per un decognito Cilì poco lungo Allora Valentina Facciamo vedere un'altra gag Anche voi a casa Ocio 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 Ecco la prossima gag È questa Dice cos'è Allora Iniziamo qui Scala musicale Scala musicale Poi c'è Sol La Sola Sola Poi c'è una penna E quindi La penna La penna La penna è l'arbitro Che abiterà appunto il match Tra Sassuolo e Frosinone E quindi Ti sta già guardando male Ti sta già guardando La penna ti stiamo guardando Brava Allora Ma adesso è abitrato genio Perché purtroppo Ti fai male da sotto Ah si è lasciato anche Un minuto in più Alla fine Del recupero Ha lasciato finire un'azione Ma riesca quindi Noi non possiamo proprio Dire niente Non possiamo dire niente Antonio come vedi Questa partita del Sassuolo E soprattutto il Sassuolo Come secondo te Arriverà all'incontro Di questo match Ballardini Avrà dato il suo peso specifico Perché ricordiamo che La prima settimana Che riesce a dare Un po' le diritte ai ragazzi Diciamo che l'altra partita Conte il Verone Ha avuto solamente due giorni Sì si è già vista Qualcosa Non dico la mano Di Ballardini Forse solo il dito Per restare in tema Però Soprattutto dal punto di vista Dell'atteggiamento Secondo me Almeno a me La squadra è piaciuta Contro il Verona Squadra che è mancata Da questo punto di vista Tante volte E poi vedremo appunto Se ci saranno anche Delle modifiche tattiche Perché sarà la prima Vera settimana Di lavoro di Ballardini Di Francesco Ha parlato in conferenza stampa Ha detto Temo il nuovo allenatore Ma anche la voglia Di rivalza del Sassuolo Allora ragazzi Veloci perché siamo quasi In termine del nostro programma Non volevo Non dimenticarmi Di fare i complimenti A Bigica Dice perché Perché la primavera Che tu so che sei qui Antonio Ha vinto a Torino Contro la Juventus Sì in una settimana In una settimana poi Complicata anche per la primavera Abbiamo visto le vicissitudini Bigica che è andato Che è andato ad allenare Un fallo Praticamente Una distrazione La caduta di un terzino Mi sembra Un pescone su cinque grano Un pescone su cinque gambe Cinque gambe Cinque grano Cinque grano Invece di fare Cioè Cinque grano Stesse simulando Però dal replay Si vede bene Un pestone Da parte del Del giocatore della Juve Episodio che ha fatto Arrabbiare tantissimo Chiaramente i giocatori Del Del Sassuolo Anche mister Bigica Che era in panchina Però Sottolineiamo anche Che a fine partita Due allenatori Montero e Bigica Si sono stretti la mano E si sono abbracciati Quindi Poi è rimasta solo Una cosa di campo Allora Luca Luca Eccomi Allora L'altra settimana Non l'abbiamo fatto in tempo Stata settimana Ce l'abbiamo Il signore A Marcord Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Indimenticabile Indi brava Brava Sabri Indimenticabile Anche perché Io con lui sono Particolarmente Legato Quindi C'è stato un aneddoto Era una modena Con Appena finita la partita Tutti giustamente Dalla Rai Al TRC Giustamente Le televisioni principali Lo aspettano Sai che si andava Credo che ci si vada ancora su E invece di fermarsi Dove ci sono appunto Lo star dell'interno Si è fermato Come mi raccontava Che le sue gemelline Da piccole sono cresciute Adesso mi arrivano Fino qua Stiamo vedendo una foto Proprio di quel tempo Con come mi importa E proprio Questa è la squadra Dove Quando chiamavi Giocatore per giocatore Consolini Uscivano dallo stadio Stavano con te Un quarto d'ora Venti minuti a parlare Eccolo qua Orasio Erpen Non dimentichiamo Che grazie alla punizione Di Orasio Erpen Fece Battendo la punizione Fece battere Con la testa Capitan Piccioni Facciamo il gol E con questo gol Siamo battendo Il Manfredonia Che eravamo Sassuolo Sassuolo Manfredonia Facendo questo gol Di Piccioni Andiamo su Di categoria Ricordiamo che Si fermavano sempre A parlare i giocatori E Pagani addirittura Anche a fumare una sigaretta Una Una brava Una Noi abbiamo visto Della gente Comunque Il nostro Il nostro Gaucho Quindi di conseguenza Di origine Argentina Ha cominciato A giocare Con il Boca Junior Per poi Pianino Pianino Nazionale È andato a Venezia È andato Con il Chioggia È andato con la Triestina E poi anche lui Ha fatto Tre anni con noi Dal 2006 2009 È venuto appunto A giocare A Sassuolo 91 presenze 12 gol Per cui Non essendo una punta Perché se ti ricordi Era un centro capista Sì Un po' avanzare La mezza punta Esatto Quello che può essere Un bairami Del giorno d'oggi Ecco O un volpato Tanto per capirsi Quei centro capista Che però Quando si trovano Fanno gioco Fanno gioco E via dicendo Dopodiché È sceso Di categorie Da Tenarezzo Sorrento Juve Stabia Ecco Quando è venuto A Modena Che erano Appunto In Serie B Era lui Un giocatore Della Juve Stabia Che era venuto A giocare Modena Juve Stabia Per cui C'è stato Questo Ma racconta Quell'elettro Che Il momento in cui C'era l'intervista C'era anche la Rai Lui ha deblato la Rai Per veniti prima a salutare Esatto Esatto Di fatti Come appunto Dicevo prima È stata una cosa Che anch'io Non me l'aspettavo Perché invece Mi ha fatto molto piacere Mi ha raccontato Le sue gemelline Perché All'epoca Che eravamo Punto In C1 Si andava a fare La spesa Nei supermercati Con i calciatori Cioè Quindi per dire Il rapporto Che c'era Veramente Amichevole Nonostante fossero Dei professionisti Perché In C1 A maggior ragione Che all'epoca C'era ancora La C2 Quindi già la C1 Cominciava a essere Un passo importante Ma l'amicizia L'amicizia Volevo sentire anche La nostra Sabi Tra l'altro C1 Venivano a fare L'allenamenti Con le utilità Le poi in Serie A Invece Sappiamo Tutte i macchinoni Ma tu Che ricordo hai Di Erpe Si beh Mi viene in mente Le gemelline Che Luca Gli avrebbe detto Che erano quasi alti Come l'una Che ci volesse molto Perché Se Erpe N'era di quasi Però io Voglio dire una cosa L'altro ieri In centro Ho visto Magnanelli Ah Addirittura Non so cosa C'è Ma lui abita solo No abita solo E infatti Però La sua famiglia Abita solo Sì Il centro Sì Vabbè che adesso Vede più Un saluto Al microfono Ci manchi Un saluto Al nostro capitano Ci manchi Francesco Ok ok Però Per dire una cosa Devo salutarvi Perché siamo già fuori tempo Vai vai Valencia No no Ricordo di Pagani Aveva una fidanzata inglese No Noi ricordo che Cioè Avevamo la raccolta Dei soldi Per gli ultra Se lei ci lanciò Non so quante sterline Dentro questo cestino Un plico così Che Quando le abbiamo contatti Siamo rimaste un po' Va bene ragazzi Siamo arrivati al tema Sforiamo con il solito Ragazzi Nella 7 gol Ci dovranno sopportare Anche questo giro qua Saluto anche Antonio Ciao Antonio Ciao buonasera Tanti auguri alle donne Un saluto Grazie Bravissimo Tanti auguri A tutte le donne d'Italia Del mondo Direi a questo punto Buonasera Siamo in mondo Buonissimo Allora La nostra Claudia Buon otto marzo a tutte E forza Sassol Esatto La nostra Valentina Che è ritornata con piacere a trovarci Mi raccomando Bisogna divertirsi E eseggiare Esatto Esatto Ma senza esagerare Se si beve non si guida Da quale pulpito arriva Questa della salvia Va bene ragazzi Ci vediamo a salutare Ciao a tutti Ciao Forza Sassol Cuore Nero Verde Il programma TV Che ogni venerdì Alle ore 19 Ti informi e approfondisce Tutto il mondo Del Sassuolo Calcio In collaborazione con Sassuolo News E TVB Studio Tutti i venerdì alle 19 Su Rete 8 Qui studio Buon stadio